Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non ce l'abbiamo col Partito Democratico, ce l'abbiamo con tutti i partiti e organizzazioni che in questa fase così delicata fomentano la guerra, inviando armi all'Ucraina. Come dire, essendo supini alle direttive USA e Nato di fomentare questa guerra, al cui massacro ci vanno solo i civili e le popolazioni civili. Letta, attento, ancora fischia il vento! Letta, attento, ancora fischia il vento! Letta, raghi, servi della Nato! Depiti iniziamo la nazione! L'antifascismo è solo popolare, fuori inviti dal 25 aprile! L'antifascismo è solo popolare, fuori inviti dal 25 aprile! L'antifascismo è solo popolare, fuori inviti dal 25 aprile! L'antifascismo è solo popolare, fuori inviti dal 25 aprile!